Salvatore! Salvatore c'è vivo? Ci puoi rilasciare un'intervista? Salvatore, ci puoi rilasciare un'intervista? Sì! Dai, mi servo a tutti! L'ho visto io! Francesca! La foto, eh? No, filmino! Ciao! Questa foto, mi piace! Dai, stai contenta! Dalle otto alle nove! Facciamo il Ciletorn değerino? Dai,لا fa, dai! Facciamo il Ciletorn değerino! Voi iniziare? Non c'è cosa di là! E pra thicker! Grazie.